Salve amici di Rocchi di Cineasta! Oggi siamo in compagnia dello storico del cinema, critico cinematografico, ex professore ordinario di cinema e televisione presso l'Università di Roma 3 ed esista di film di finzione e documentari Vito Zagario, di cui ha pronunciato il suo ultimo documentaggio, precisamente il 22 febbraio 2024, dal titolo Dei Seduzioni, basato sul romanzo Dei Seduzioni dell'Inverno di Lidia Ravera. La prima domanda che le fasso è la seguente. Come ha scoperto questo libro e come mai ha deciso di realizzare una pellicola su questa storia? Quali elementi lo hanno catturato maggiormente nel romanzo? Inoltre, visto che ha ricoperto anche il ruolo di sceneggiatore insieme a Nicola Ravera Raffaele, che difficoltà avete avuto, se ne avete avute, né trasportare la storia dal romanzo al cinema. Ho visto che avete fatto alcune modifiche narrative. Ad esempio, avete modificato l'ambientazione nel romanzo da Roma a Napoli. Una certa particolare, e poi ovviamente come sta. Bene, intanto se posso, l'accento è sulla i, Zagarrio, però insomma, l'importante intende, si, Vito Zagarrio. Bene, io sono stato seduto per giocare col titolo del mio film dal romanzo di Lidia Ravera. Devo dire, è stato un colpo di fumie. Conoscevo la Ravera, era un'amica, ma questo suo romanzo, che si chiama Le Seduzioni dell'Inverno, era un romanzo intanto produttivamente fattibile, perché questo conta quando vuoi fare un film. Non era un film storico, di grandi ambientazioni, di grandi location, costumi. Volevo fare una cosa piccola e questo me ne dava la possibilità. Poi era un film femminista. Lidia Ravera, per la mia generazione, è importantissima perché ha scritto Porci con le ali e poi ha scritto tanti romanzi, sempre con un'impostazione femminile o femminista. E questa era la storia di un uomo in inverno, col cuore in inverno. Forse faceva riferimento a quel famoso film francese, un uomo freddo, incapace di amare, che piano piano si scioglie. Si scioglie come? Grazie a un gioco di donne, perché c'è un gioco femminile che io non voglio spoilerare al pubblico, ma insomma viene messo in mezzo da un gruppo, una serie di donne, due donne che in qualche modo lo vogliono punire, anche per il suo atteggiamento, per il suo maschile. Oggi noi maschietti siamo sotto scacco ogni tanto, siamo sotto accusa, anche giustamente. E allora attraverso questo coro femminile che attorno al protagonista maschile, il personaggio anche matura. Un maschio che è in crisi, entra in crisi e comincia ad essere capace di avere sentimenti, capace di amare e però anche di soffrire. E forse grazie a questa sofferenza muta e cresce. Quindi è anche un romanzo di crescita. L'ambientazione. Il romanzo è ambientato a Roma, nell'ambiente delle case editrici. Io ho trasportato questo ambiente a Napoli, sia per ragioni produttive, perché il film è stato coprodotto dalla Film Commission Campania, quindi era necessaria questa... Poi la mia produzione, la mia coproduttrice è napoletana, abbiamo già fatto un film che si chiama Tre giorni d'anarchia, insieme il mio ultimo film era prodotto da Arti Magiche di Napoli e quindi era ovvia la scelta. Ma anche perché Napoli oggi è un po' nell'occhio del ciclone, mi sembra la cultura napoletana, la musica napoletana, vedi Sanremo, il cinema napoletano, vedi le serie, Gomorra, i film di Martone, di De Angelis, eccetera, eccetera. Il garrone che va a girare Dogman nell'Interland napoletano, quindi mi piaceva lavorare sull'identità napoletana, ma non la Napoli stereotipa, né quella della cartolina, né quella della Camorra e dei vicoli, dei quartieri spagnoli. È una Napoli alto borghese, è una Napoli intellettuale, è una Napoli colta, è una Napoli del vomero, è una Napoli di una certa borghesia con tutte le contraddizioni però della borghesia di oggi. Quindi se i vicoli napoletani hanno alcuni conflitti forti, ma anche Vomero e anche la Napoli alta ha le sue infelicità e le sue contraddizioni. Quindi questa è stata la scelta base. La mutazione anche rispetto al romanzo è che nel romanzo l'uomo si innamora di una donna molto più grande di lui. Quindi c'era anche questo gap di età che all'inizio questa donna non sembrava sensuale, no? E poi piano piano si scopre di una sensualità. Devo dire abbiamo avuto anche contatti con altre attrici francesi molto più anziane. Poi però abbiamo scelto Amélie d'Or, che è una donna di grandissimo fascino. Se vedete il film ha un grandissimo fascino, quando entra Ray nel film il tono da commedia passa a un dramedy, a un giallo, e quindi abbiamo scelto non la differenza d'età, ma la differenza di ceto, la differenza di nazionalità, la differenza di cultura, la differenza di gender, ovviamente. La pellicola gioca sul tema della seduzione e dell'amore, risultando, da come ha dichiarato anche le più volte, una sorta di thriller dei sentimenti. Come mai definirebbe il film come un thriller dei sentimenti? E che cose prende l'amore e la seduzione? Thriller dei sentimenti perché c'è un giallo intanto, no? Perché c'è l'uomo si innamora di una cameriera che si capisce che non è assolutamente una cameriera e che a un certo punto scompare. Allora c'è il giallo di capire che cosa è successo, no? Perché questo uomo che finalmente si è innamorato, viene abbandonato e resta come un citrullo. Allora perché? Da qui la ricerca, il giallo, la detection di capire che cosa è successo e si capirà che c'è stato un gioco un po' perverso dietro. Ma poi thriller perché i sentimenti sono un giallo, no? I sentimenti sono un thriller. Non solo, ma i sentimenti e la seduzione soprattutto sono dei misteri. Perché io mi innamoro? Mi innamoro perché proietto su un altro dei miei bisogni. Quindi l'altro probabilmente non è quello che io credo. È finto la seduzione. Io seduco perché gioco, play, no? Jouer in francese, to play in inglese, faccio una specie di recita, no? Faccio un gioco, recito una situazione per sedurre una donna o per sedurre un uomo o per essere sedotto. E questo quindi crea il problema che è anche per me la metafora del film è che cosa è vero, che cosa è falso. Niente è quello che sembra. Adesso non dico di essere Kubrick, ecco, io adoro Eyes Wide Shut, però l'idea è quella che tutti hanno risvolto della medaglia. Io avevo già fatto nei lontani anni 90 un film che si chiama Bonus Malus, che parlava di questo, no? Ognuno ha una doppia faccia ed era proprio un drame di allora una commedia amara. Io non riesco a fare commedie, come dire, rilassanti, rassicuranti. La mia commedia è un modo di interpretare la società, quindi anche con tutto il dolore e il conflitto della società di oggi. Si può avere ironia, io credo che l'ironia sia fondamentale, ma purtroppo non si può essere a cuor leggero oggi, no? Di fronte a quello che succede nel mondo. Infatti il denzeno anche delle varie notti di regia ha scritto «Deseluzioni è un nitratto di una certa generazione e lo spaccato di una certa società, una riflessione sull'Italia nel nuovo millennio vista attraverso le contraddizioni di una certa classe merivarta borghese». Può approfondire un attimo questo concetto? Sì, il livello, il niveau di questo film è appunto la media alta borghesia. Il protagonista è un editor di una casa editrice, quindi ha a che fare con i quartieri alti napoletani, con la Napoli alta, ovviamente con tutte le infelicità della sua classe. Non è detto che essere un po' più ricchi significa essere un po' più felici. Viviamo in un mondo pieno di contraddizioni. È chiaro che l'amore riflette le contraddizioni nostre. Uno sta male, ma non perché per ragioni obiettive, perché evidentemente tutti noi abbiamo delle insicurezze. Io credo che tutti si possono identificare in questo film perché tutti hanno delle complessità d'amore, cioè l'amore è ambiguo e tutti i personaggi hanno una loro complessità e una loro ambiguità, specialmente in questo momento. Io credo che il film sia, l'ho rivisto proprio nell'anteprima che abbiamo fatto a Napoli e che faremo a Roma e poi a Milano, a Firenze, e il film è attualissimo perché, scusa lo dico immodestamente, ma non so se è un capolavoro, forse no, ma obiettivamente è importante perché oggi c'è un maschio che viene messo sotto accusa. Si parla di patriarcato, si parla di violenza contro le donne, giustamente, ma c'è un maschio che deve anche cambiare. Il mio personaggio è proprio un uomo, un sesso maschile che però in qualche modo muta atteggiamento nei confronti della donna, però anche delle donne che apparentemente sembrano delle virago, c'è una capo della casa editrice che sembra cattivissima, padrona e poi invece si rivela una tenerazia, c'è una moglie che sembra odiare il marito, volerlo punire, poi alla fine forse è innamorata di lui, una donna che viene in qualche modo usata per un gioco al massacro rispetto al maschio che bisogna punire e poi forse è una donna che è passionale, che si innamora e così via. Ecco, tutti i personaggi sono complessi e quest'uomo, soprattutto l'uomo che è protagonista, ma il mio film è un film corale, soprattutto l'uomo protagonista, cambia grazie e per colpa delle donne, ma anche grazie alle donne e forse tutti in questa interazione possono essere un po' degli esseri umani migliori. Invece riguardo alla ricerca degli attori, come è stato? Avete trovato facilmente il personaggio giusto per il protagonista e per il protagonista femminile o se è stata una difficile ricerca degli attori? Ma sai, i film credo che abbiano un destino, un loro destino, una storia complessa, è chiaro che bisogna triangolare da tanti fattori, gli impegni degli attori, i costi, non possiamo prendere De Niro per un film del genere, non possiamo prendere Alpasino, però nell'ambito di un film a basso costo, perché il mio film è un film a basso costo, credo di avere fatto le scelte migliori, perché Andrea Renzi, io l'adoravo perché ha fatto il primo film di Sorrentino, lavora con Virzi, con Martone, con tutti, Iaia Forte, una delle attrici napoletane più famose, non ha bisogno di presentazione, così ridevano, quello di Martone, la grande bellezza, Antonella Stefanucci, Antonello Cossia, Serena Marziale sono tre attori napoletani molto bravi e Andrea Renzi è chiaramente la figura centrale. Non ho nessun rimpianto, ho fatto grande amicizia con questi attori, forse la cosa più complessa era trovare il personaggio enigmatico, ambigo della donna che fa innamorare il protagonista e alla fine l'abbiamo individuata in un'attrice che parla italiano, che ha un agente italiano, che a noi abbiamo provinato, mi è piaciuta molto, che si chiama Amélie Dor, che io avevo visto in un film di François Hausson e me l'ha piaciuta molto. In riguardo alle loro interpretazioni, lei ha usato qualche tecnica per aiutare a creare il personaggio o gli ha dato anche una loro libertà durante le riprese? Guarda, io sono abituato a dare libertà agli attori, libertà, non dico di improvvisazione totale durante le riprese, ma di ritagliarsi addosso il personaggio, quindi nelle non molte prove, perché purtroppo non si ha mai tempo in Italia per fare tante prove, non ci sono i soldi per fare settimane di preparazione, quindi abbiamo fatto delle letture e chiaramente leggendo il testo con gli attori ognuno si è messo in bocca le cose, non solo, Iaia Forte per esempio mi ha proposto di girare una scena in maniera diversa da come l'avevo pensata, allora dice no questa scena è troppo bella, devo venire io, c'era una telefonata, dice no non devo fare la telefonata, devo venire io sul set perché questa è troppo bella, la mia corporità, l'interazione col protagonista e quindi chiaramente gli attori propongono, ora a volte gli attori propongono delle cose che sono troppo pendenti dalla loro parte, però bisogna anche secondare il loro istinto, quanto ai dialoghi poi è importantissimo, la sceneggiatura viene cambiata assolutamente durante le riprese grazie agli attori, anche perché questi sono attori professionisti, nei miei film ci sono anche attori presi dalla strada ma nei ruoli, nelle comparse, nei ruoli secondari, altrimenti i ruoli maggiori sono sempre stati professionisti che mi hanno, devo dire anche mi hanno insegnato, Greta Scacchi nel mio primo film che era già un'attrice famosissima, Ricolo Verso nel mio terzo film, Claudio Bisio, Claudio Bigagli, Atina Cenci nel mio secondo film e quindi è qui appunto questo pacchetto di attori Andrea Renzi, di Aiaforte, molto bravi, quindi a me piace recitare con gli attori e devo dirti da tu che parli, che hai un blog cinefilo, il momento in cui quello che hai pensato leggendo un libro oppure quello che hai scritto e quello che hai scritto nella sceneggiatura, nel momento in cui lo vedi realizzato è il momento creativo più bello del mondo, cioè è come fare un figlio, no? Tu vedi una cosa che in quel momento su set sta succedendo una cosa pazzesca che tu hai pensato nella tua testa e sulla carta e credo che questo sia un atto di creatività enorme e anche un atto tra virgolette se posso erotico, no? Cioè proprio di grande amore. Due personaggi della pellicola sono innumiamente la musica e la location, spessamente i grattazieri di Napoli e l'appartamento di Stefano. Come ha lavorato insieme al compositore Paolo Vivandi, gli arosenografo Adolfo Recchia, per la creazione sia del musicale e dell'ambientazione visiva? Paolo Vivaldi è come nome nome, come il grande musicista. Paolo Vivaldi è diventato uno dei più bravi compositori di colonne sonore. Ha fatto non essere cattivo di Claudio Caligari, che a me era piaciuto molto e poi tanta fiction, da Mennea a Olivetti e a tanti altri. Quindi è uno capace di fare anche una musica o dolce con sax, con pochi elementi, oppure anche con l'orchestra, con gli archi. Insomma credo che sia tra i giovani compositori uno dei migliori. Poi è un allievo tra virgolette di Morricone, uno che ama molto Morricone. Gli ho visto fare un concerto dedicato a Morricone Sakamoto, per cui questi sono i suoi modelli. Abbiamo interpretato il film cercando anche di non debordare, cioè che la musica non fosse sovecchiante. La musica deve essere ogni tanto ben amministrata, perché altrimenti diventa un musical. Per quanto riguarda Adolfo Recchi, è uno fedele scenografo della società che ha prodotto. Con lui ho fatto anche tre giorni d'anarchia, che era un film difficile, perché era un film storico ambientato nella Sicilia del 1943, durante la guerra. Quindi uniformi, carri armati, camionette americane. Cioè era molto complicato. ricostruzione di un paese durante il regime di Mussolini, quindi molto bravo e molto complicato. Qui la complicazione era di riprodurre in studio gli ambienti, gli interni. Tutti gli interni sono stati ricostruiti a Napoli negli studi dell'ex base nato, cioè l'ex batenato di Napoli adesso dismessa, è diventata una specie di guscio vuoto dove puoi costruire di tutto e quindi sono diventati dei veri e propri teatri di posa. Quindi è stata una bella esperienza. I due scenografo e musicista sono ovviamente importanti. Io aggiungerei a questi due maestri, tra virgoletti, Roberto Perpignani, che è il montatore di Bernardo Bertolucci, di Paolo e Vittorio Taviani, uno dei più grandi montatori che è stato un po' mio maestro e che è un signore di più di 80 anni ormai e aveva montato il mio primo film, La Donna della Luna. Quindi siamo tornati a... soltanto che quando abbiamo fatto La Donna della Luna io ero un ragazzetto e lui era già Bertolucci e Taviani. Adesso io ho fatto la mia esperienza e abbiamo, come dire, la possibilità di interagire anche in maniera amichevole, un po' più alla pari. Poi un'altra riflessione. Per certi versi il film si presenta nei personaggi stori in cerca di una propria felicità, partendo da Stefano, ma anche, secondo me, da Sara, sirve la stessa suo film. Si potrebbe dunque dire che la storia di anime rotte ha una riserca di una loro felicità, di una loro armonia. Questa è una bella interpretazione che tu fai del film e me la scrivo. Sì, la sottoscrivo, queste anime in cerca di una loro felicità, di una loro armonia, che poi è quello che abbiamo tutti nella vita. Ci troviamo di fronte alla ricerca di una nostra armonia interiore, la ricerca della felicità, Pursuit of Happiness, era un famoso libro americano, la ricerca della felicità, anche un film di Muccino. E però anche la difficoltà della realtà, cioè che cosa è vero, che cosa è falso, qual è la vera realtà che viviamo quando siamo di fronte a un partner di cui ci innamoriamo, che cosa è vero e che cosa è finto. È la realtà che ci circonda. È vera o finta? I nostri sentimenti sono veri o finti? Questo è un tema che mi sta a cuore, che era anche il bonus malus o in altri, e che in altri, forse in tutti i miei film, dove c'era il viaggio, ma anche il viaggio è una ricerca interiore. Anche in questo film a un certo punto Stefano viaggia per andare a trovare la moglie e il viaggio è un viaggio dentro un tunnel. A me piace questo viaggio che c'è nell'ultima parte del film, dentro una galleria, dentro un tunnel, dentro le viscere dell'anima, perché il viaggio, la ricerca, è sempre una ricerca interiore nei labirinti dell'inconscio. Nel film, se abbiamo il protagonista Stefano, ha creato un suo arco di trasformazione interiore, forse il nome dell'amore. Interessante è come la trasformazione sia stata marcata a livello visivo, sia a livello di fotografia, ma soprattutto a livello di costume e di ambientazione stessa, come l'ordine che assume mamma e lui. Insta ha un sentimento sempre più romantico verso Sophie, la sua abitazione diventa sempre più riordinata, come fosse un simbolo di un suo riordinamento di pacificazione interiore, forse. Beh, bravo, mi piace questa tua interpretazione, sì, era voluta, per esempio, Sophie, anche con i costumi, abbiamo fatto una grande battaglia con i costumi, anche nei confronti dell'attrice, per farle capire che all'inizio doveva essere una non particolarmente seduttiva, no? Non doveva essere la strafiga che entra in casa e che si capisce sin dall'inizio che... e quindi c'è un po' in difficoltà, no? Il personaggio, anche perché lei comunque è una cameriera, un po' senza trucco, dimessa, vestita con la vestaglia e grembiule, poi piano piano diventa una donna affascinante, straordinaria, di cui non ci si può non innamorare. E così anche Stefano, che all'inizio vive nella casa della moglie, un po' mantenuto, trasandato, la sua casa è un casino, dice la sua amica, dice se veniamo a casa tua rischiamo di prendere il tetano e poi piano piano invece diventa un signore più ordinato, recupera il suo aplomb, cambia giacchetta, no? Cambia i colori, si compra la moto, ecco, sono tutti simboli di una trasformazione, lui li diventa non soltanto si riscalda il cuore, ma diventa lo stato simbolo della motocicletta che lui desiderava e finalmente si compra la moto, andare a farsi un viaggio, in pratica la vita gli sorride e dal grigio diventa colorata e nel momento in cui la vita diventa colorata improvvisamente si spegne la luce e questo gli crea chiaramente un grandissimo dolore. Più volte il personaggio di Stefano dichiara che siamo in un mondo di analfabeti, in un mondo in cui si rende sempre meno romanzi, ne è davvero in questo modo così pessimistico? Beh no, ovviamente il personaggio è un pochettino paradossale anche perché un po' lui gioca a fare il cinico, gioca a fare il cinico nei confronti della sua giovane amante, nei confronti della vita, cioè sembra uno che non ha, che gioca in maniera un po' snob e anche questo suo essere snob alla fine lo, quindi io non voglio essere snob rispetto a questo, è chiaro che devo dire a me fanno ogni tanto un po' paura i social della tua generazione, credo che si debba anche leggere un libro e non soltanto fare i messaggini al telefonino, perché altrimenti viene come dire la postura dei nostri figli che stanno sempre calati a zippare e a textare, se la vita non è soltanto questa, ogni tanto bisogna leggere anche per ec come fa la protagonista femminile del mio film, ma senza essere snob, questo non significa che sono, tutti gli altri sono negativi. Ok, e invece riguardo a personaggi di Sufi, è un personaggio molto particolare che si distacca un po' dai vari stereotipi del personaggio colfa, è un personaggio molto elegante. Eh sì, ma perché alla fine si scopre che lei non è una colfa per niente, no? La cosa infatti sin dall'inizio, dai primi minuti, lui dice ma come fa una colfa ad essere francese, ma di solito abbiamo le russe, le slovene, le ucraine, non gli torna e infatti poi alla fine si capisce che era un gioco un po' perverso, un po' cattivello in cui lui si è, però non voglio neanche rivelare troppo, no? Devo dire che il gioco, nel manifesto d'altra parte c'è una tavola di poker, ecco il poker c'è come anche metafora dell'azzardo, perché se ci pensi l'amore stesso è un azzardo, quando tu ti innamori e in qualche modo metti in gioco la possibilità di soffrire, allora o uno non comincia neanche, o uno non comincia neanche la seduzione, oppure devi stare a gioco e devi mettere in conto che magari amando si soffre anche. Odi et amò, diceva il poeta. Ok, in parte ti ha risposto questa domanda. Comunque, trovare le similitudini del personaggio Stefano con i suoi vecchi personaggi che mi chiamano stati nei suoi presenti lungometraggi? Questo non sto a me dirlo, però io se ti interessa ho fatto anche un libro che si chiama Eppure Cinema, diario di un regista tipico, appunti di un regista tipico, proprio perché io sono da un lato professore, studioso, critico, direttore di festival, dall'altra parte regista, e l'ho fatto per mettere insieme i miei film con un QR code, se uno lo vuole si va a vedere i miei film precedenti, si chiama Eppure Cinema, si trova su Amazon. Quindi non sta a me dirlo, ma chi ha studiato, chi ha visto i miei film tutti insieme ci vede un filo rosso, per esempio quello della trasformazione del personaggio. Angela nella Donna della Luna era una donna un po' snob, straniera, un'americana che viene in Sicilia per il funerale del padre e in questo viaggio in Sicilia si scioglie, si scioglie i capelli, si scioglie il vestito, si scioglie, anche lì si innamora di un ragazzo più giovane, anche lì gap culturale e generazionale. Bonus Malus è la storia di un cattivello, di un po' cinico ispettore delle assicurazioni che deve fare il suo mestiere e punire gli assicuratori che non funzionano e piano piano cambia, capisci che la vita è più complessa e diventa morbido e infelice, non ci si può assicurare contro l'infelicità. Tre giorni d'anarchia era la mutazione di un paese che passa dal fascismo agli americani, è un personaggio di transizione rappresentato da questo eroe del film che è Giuseppe Enrico Loverso, quindi è qui le cose che ci siamo detti, quindi il viaggio, la trasformazione, il personaggio che si scioglie come si scioglie Stefano delle seduzioni, detto Freezer, la moglie lo chiamava Freezer perché era incapace di amare e di avere sentimenti e poi piano piano questi sentimenti invece si capisce che un uomo di grande maturità, anche attraverso la sofferenza si cresce anche soffrendo. Ok, ringrazio per il suo tempo e vi invito ad andare a vedere il film Le seduzioni, una pellicola interessante, priva di qualsiasi tipo di volgarità, ma malcatamente elegante nei suoi toni, un film molto delicato, quindi vi invito ad andarlo a vedere. Mi ringrazio Vito Zaggarino, e a diversi, e buon anno. Bene, sì, ne abbiamo bisogno perché è un film indipendente, non è un film con i grossi poteri della distribuzione, quindi ha bisogno di essere sostenuto anche in maniera militante, ringrazio te per questa bella intervista. Grazie a te, e buon continuo, e buon proseguo di film. Benissimo, ciao. Grazie. Grazie.